Ancora non lo sai fare? Rendi le tue spalle più rotonde con questo esercizio. Alzate laterali con i manubri. Prova a farle da seduto. Hai meno probabilità di sbagliare la traiettoria. Non tenere le braccia completamente tese, ma il gomito deve essere leggermente piegato. Guida il movimento con il mignolo e il gomito perfettamente allineati. Se uno dei due è più alto dell'altro, probabilmente stai sbagliando qualcosa. Controlla il movimento e evita di dondolare con la schiena.